Forse un malore all'origine dell'incidente avvenuto a Chiaravalle nei pressi della rotatoria per l'aeroporto di Falconara, in cui ha perso la vita Faustino Pesaresi, meccanico 59enne di Agugliano. Secondo la prima ricostruzione di vigili urbani di Chiaravalle, polizia stradale, l'uomo a bordo della sua auto stava percorrendo la strada provinciale 2 da piane di camerata in direzione Chiaravalle, quando nei pressi di una curva ha perso il controllo del mezzo, ha invaso l'opposta corsia di marcia ed è finito nella scarpata a bordo strada. L'auto si è adagiata su un fianco. Pesaresi è morto sotto il peso della sua vettura, ma non si esclude che possa essere stato colto da un malore proprio mentre stava percorrendo la curva. Il traffico è stato interrotto per due ore sul posto vigili urbani di Chiaravalle e polizia stradale.